Venti, non ci lasciano in pace. È da quando abbiamo salvato Mathias, che sono a caccia di sangue. Da sei la ragione, deve esserci lo zanfino del domino. Grazie a tutti. Owen, hai le coordinate? Affermativo. Il posto non è lontano. Allora vado subito al corno. Non possiamo aspettare. Sei sicuro? Affrontare il dominio non è come restringere un ragazzo.